Grazie a tutti. Vederlo da diverse ottiche. L'abbiamo fatto con il tema della libertà, con il tema del corpo, l'anno scorso con il tema del colore. Quest'anno ci occupiamo del tempo. Stasera avremo la prima serata con il professor Boncinelli che è qui e che ringrazio. Poi avremo a seguire una seconda puntata con uno sguardo più legato alla filosofia, una terza puntata legata a come il tempo veniva vissuto dagli antichi con Eva Cantarella, e una quarta puntata infine con la sociologa Carmen Leccardi che parlerà della contemporaneità e di come viviamo nella nostra società il concetto di tempo. Tutto questo per dire che, ovviamente, come si dice sempre in questi casi, non c'è bisogno di presentazioni per il professor Boncinelli, genetista, editorialista del Corriere della Sera, e poi anche uomo rinascimentale in tutti i suoi interessi, che appunto spaziano dalla scienza alla filosofia, dalla lirica greca alla psicanalisi, e come abbiamo visto anche qualche tempo fa, poco prima di Natale, su questo palco anche la cucina. Del tempo si è occupato in due sue pubblicazioni, due sue pubblicazioni, la prima, una pubblicazione in la terza, era il tempo delle cose, il tempo della vita, il tempo dell'anima, e un'altra proprio con un titolo che cos'è il tempo. Che cos'è il tempo? Professor Boncinelli, lascio a lui la parola. A saperlo. A saperlo. Arrivederci, buona serata. Grazie. Buonasera a tutti. Oltre al mio libro, che è stato appena menzionato, ho fatto anche un DVD di 50 minuti, in cui parlo in continuazione degli stessi argomenti, che credo si trovi ancora in distribuzione. Perché ho frazionato in questo libro e nel corrispondente DVD il tempo in tre parti, il tempo fisico, il tempo biologico e il tempo psicologico? Perché mi è parso una strategia, una delle tante naturalmente, se ne poteva trovare altre, per cercare di approfondire un tema che è difficilissimo. Tanta parte, se non fosse difficilissimo, non se ne parlerebbe. Il tempo è uno dei concetti più difficili da maneggiare e che ancora non ci permette di darne una definizione, chissà per quanto tempo ancora, nonostante che lo sappiamo misurare con una precisione incredibile. L'ultimo orologio atomico, approfittando del raffreddamento degli atomi, sbaglia di un secondo ogni 30 miliardi di anni. Pensate voi, l'universo ha solo 13-14 miliardi di anni, questo orologio quindi sbaglia di un secondo più del tempo da quando è cominciato. Quindi noi lo sappiamo misurare con una precisione incredibile, l'abbiamo misurato in tutte le maniere naturalmente, qualcuno dice addirittura che abbiamo esagerato perché siamo schiavi del tempo, ma non sappiamo dire che cos'è il tempo. Tipica è la frase di Agostino che mi dispiace ripetere per la 150esima volta, ma tutti lo fanno, Agostino dice se non me lo chiedi so benissimo cos'è il tempo, ma se non me lo chiedi so benissimo cos'è il tempo, ma se me lo chiedi non te lo so dire. Perché cito questa frase? Non tanto perché non l'abbiate mai sentita, perché penso l'abbiate sentita tantissime volte, quanto per il fatto che a pensarci bene questo è vero quasi per tutto, non è vero solo per il tempo. I concetti più alti, i concetti più astratti, quelli che a noi esseri umani piacciono tantissimo, hanno tutti questa caratteristica. So benissimo cosa vuol dire anima, per esempio, ma se te lo devo spiegare sono dolori. Nel caso del tempo effettivamente il problema è grosso. Quali sono i problemi connessi al tempo? Almeno un paio, almeno il principale. Uno è il fatto che il tempo può essere immaginato o come ciclico, ripetuto, o come lineare. E le diverse epoche storiche e le diverse culture hanno optato o per l'uno o per l'altro. Noi in questo momento da occidentali di formazione cristiana pensiamo che il tempo sia lineare. Ha avuto un inizio, avrà forse una fine e va avanti un passo dopo l'altro. Però se ci pensate, nonostante che siamo convinti che il tempo è lineare, non lo sappiamo misurare se non approfittando di fenomeni ciclici. il tic-tac dell'orologio, il passaggio della sabbia attraverso una crescidra, la rotazione della terra, l'alternazione degli stazioni. Noi siamo convinti, convintissimi, che il tempo è lineare. però la sua ciclicità è fondamentale per la misura del tempo stesso. E molte popolazioni, molte civiltà pensano che il tempo sia circolare e che tutto ritorni. Naturalmente sono in profondo errore perché probabilmente il tempo in cui osservano è troppo corto per vedere il ritorno. Ma comunque fenomeni ciclici sono il segreto per misurare il tempo che è lineare. L'altra domanda, secondo me, la domanda delle domande, il tempo è un contenitore vuoto nel quale si sossegono gli eventi o è tutt'uno con gli eventi stessi? Cioè può esistere un tempo vuoto come esiste secondo qualcuno, ma non tutti, uno spazio è vuoto. Quindi questo è già sufficiente per complicare terribilmente il fenomeno. C'è in realtà un altro aspetto del tempo, forse quello che ci sta più a cuore, che è la sua irreversibilità. Mentre nello spazio possiamo andare in là e tornare in qua? Nel tempo no. Nel tempo si va solo in una direzione, a parte gli articoli di giornale, i film e le cretinate dei rotogalchi. Fino ad oggi, fino a questo mese di febbraio del 2016, il tempo va solo in una direzione. Cosa che viene espressa col concetto di irreversibilità. il tempo non torna indietro. Quindi ce n'abbiamo di roba da spiegare. Naturalmente le varie scienze si sono arrabattate per cercare di capire di più. Le scienze sono relativamente recenti, come sapete, le scienze sperimentali non hanno più di 400-500 anni. Prima c'era la filosofia che si poneva gli stessi problemi, ma da quando ci sono le scienze il problema è stato posto innanzitutto dai fisici. Perché i fisici studiano l'andamento dei fenomeni e le leggi che li controllano. I fenomeni avvengono nel tempo. Quindi per esempio Newton che è un grandissimo scienziato e brilla anche per il suo prammatismo non a caso è inglese assume che il tempo sia semplicemente un parametro. Chiunque di voi abbia studiato un po' di fisica anche nel liceo sa che certe quantità variano col tempo si mette tra parentesi si mette un T piccolo che sarebbe il tempo. Questa non è una definizione chiaramente. Non è nemmeno una comprensione di cosa è il tempo. Però è un modo semplice e elegante di rappresentare questo nastro che può darci un'idea del tempo. Non ci scordiamo perché i filosofi sono sempre divertenti che quel grande battutiere di Platone disse che il tempo è immagine mobile della eternità. Se lui sa cos'è l'eternità può anche darsi che questa sia una spiegazione. Se non lo sa siamo uniti da capo siamo peggio di prima. Quindi l'uomo ha sempre inventato soluzioni verbali che in genere non stanno nel cielo nel terra. Il fisico è obbligato a fare i conti con il tempo e con lo spazio. Soprattutto con quell'aspetto del tempo che è appunto l'irreversibilità. Le leggi della fisica non sono irreversibili. Se nelle leggi della fisica che vi ricordate mettete più tre ore o meno tre ore le leggi non fanno una grinza. Però mentre io so che cosa è successo tre ore fa non so cosa succederà fra tre ore. Posso fare una previsione ma non lo posso sapere. Quindi c'è nella vita una irreversibilità del tempo che non figura assolutamente nelle leggi della fisica. Questo già la dice lunga sul problema che un fisico un grande fisico ma anche un piccolo fisico c'ha col tempo. Perché il tempo è irreversibile? Beh la spiegazione più bella che abbiamo ce l'ha data Ludwig Boltzmann nella seconda metà dell'Ottocento quando ci ha mostrato in maniera abbastanza persuasiva che una simbogola particella mettiamo una molecola in realtà non esperisce l'irreversibilità del tempo perché può andare a destra a sinistra in quella però già se ne metto due o quattro o dieci o venti o cinquecento già si vede per esempio che se c'è un recipiente con due scomparti e metto tutte le molecole in uno scomparto poi tolgo il divisorio dopo un poco le molecole staranno in tutte e due gli scomparti non è che le stanno tutte da una parte e dall'altra resta vuole lui appunto attribuisce questa irreversibilità al fatto che tutte le cose che noi conosciamo sono fatte di tante particelle in particolare di tante molecole bellissima spiegazione interessante che viene studiata a scuola tra l'altro la formula che la esprime è stata incisa sulla tomba di Boltzmann il quale è venuto a morire in Italia è venuto a morire a Duino ed è perlomeno paradossale pensare perché è morto disperato perché nella seconda metà dell'Ottocento la gente cioè gli scienziati non gli volevano credere che le molecole non erano una strazione ma erano qualcosa di reale e lui si arrabattava si arrabbiava ma dicevano che non stava tanto bene per il cervello comunque la spiegazione di Boltzmann è la migliore che abbiamo non è esente da difetti e soprattutto c'è un difetto quando io sono molto lontano dall'equilibrio cioè ho appena aperto il divisorio tra uno scompartimento e l'altro è chiaro spiegare come si le molecole si ripartiscono ma quando ho aspettato un bel po' di tempo e quindi le molecole stanno già mezzo di qui e mezzo di là quindi sono vicino all'equilibrio perché il tempo è ancora irreversibile questa domanda non ce l'abbiamo cioè la risposta a questa domanda non ce l'abbiamo nel frattempo la fisica classica è finita alla fine dell'Ottocento la fisica classica cioè quella di Boltzmann di Maxwell di Newton di quelli che vi piacciono a voi sostanzialmente scegliete voi ha lasciato il passo a due teorie completamente nuove che tutti ormai conoscono io quando ero ragazzo erano ancora relativamente nuove quindi mi beavo di cercare di capire in che cosa consistevano ormai sono scontate la teoria della relatività di Einstein è la meccanica quantistica di una serie di persone capitanate da un certo Niels Bohr ma contiene tante persone mentre la relatività è quasi soltanto opera di un uomo solo Albert Einstein che infatti incarna diciamo l'ideale dello scienziato talmente ideale che a quel povero uomo di Einstein gli attribuiscono le frasi più assurde io che sto molto su Facebook ogni tanto le vedo di tutti i colori firmato anche se voleva o stava sempre con la bocca aperta o se no non era possibile che diceva tutte quelle cose però veramente come cervello è stato più unico che raro perché ha aggredito di petto il discorso del tempo indipendente dalla posizione se qua sono le sei in un'altra parte della terra è un'ora diversa ma quella è dovuta alla rotazione terrestre non è possibile che sono le sei anche in un'altra galassia perché per andare a vedere che adesso non ci devo andare e per andarsi mi impiego tempo anche se io vado velocissimo come la velocità della luce che sembra sia la velocità massima possibile quindi con una serie di raccontamenti astratti guardate bene anche se lui era un po' un marpione non è che non sapeva quello che stava succedendo contemporaneamente nel mondo sperimentale però come ce la presenta lui con una serie di discorsi astratti lui arriva a concludere che se io sto fermo o se mi muovo misuro per forza il tempo e lo spazio in maniere diverse si dice spesso che Einstein ha detto che tutto è relativo tant'è vero che Time qualche anno fa lo mise sulla copertina e disse l'inventore del fatto che il tempo è relativo in realtà se c'è una cosa che Einstein ha detto che è tutto assoluto cioè le leggi della fisica devono essere le stesse che io stia fermo o che io mi muova perché le leggi siano le stesse occorre che io che sto fermo misuri il tempo in maniera un po' diversa da chi si muove quindi noi oggi sappiamo che tempo e spazio sono intrecciati infatti si parla di spazio tempo perché muovendosi le due coordinate le quattro le altre coordinate si intrecciano questa è la relatività ristretta o speciale scoperta nel 1905 che mandò tutti i cervelli in subbuglio quando io avevo 20 anni fatevi con un tizio 50 anni fa e dirigevo una rivistina dei ragazzi ricevevo sistematicamente manoscritti di gente che mi dimostrava che Einstein aveva avuto ed erano passati già 45 anni ora non faccio più questo mestiere però ho chiesto a un mio amico che mi ha detto si si tuttora c'è gente che manda i manoscritti per dimostrare Einstein aveva torto è talmente radicata in noi l'idea che lo spazio e il tempo abbiano una realtà assoluta che non ci sembra accettabile il fatto che possano avere delle misure diverse in realtà Einstein non si accontentò come tutti sapete e dieci anni dopo nel 1916 quindi quest'anno sono cento anni andò oltre e si occupò anche della relatività speciale della relatività generale che intreccia ancora di più spazio tempo e gravitazione i corpi nello spazio come il sole come la terra ma anche come la luna distorcono lo spazio tempo in modo che se io sono un satellite e voglio andare vicino alla luna io credo di andare diritto ma in realtà ci giro in tondo non perché qualcuno mi tira ma perché lo spazio tempo è stato incurvato teoria bellissima difficilissima da digerire credo impossibile da digerire però certamente vera perché abbiamo migliaia e migliaia di dimostrazioni e ricordatevi chiunque di voi usa il navigatore che qualche volta ci porta dove non ci dovrebbe ma insomma in genere ci porta bene il navigatore o gps è basato sulla relatività generale perché se non tenesse conto di queste variazioni naturalmente direbbe gira qui e invece la traversa è due chilometri dopo o è passata da due chilometri quindi chiunque di voi avesse qualche dubbio spero di no sulla relatività generale si ripeta che il navigatore tante altre cose veramente ma il navigatore il gps è basato sulla relatività generale qualche anno dopo ma sempre più o meno lì qualcuno analizzò l'infinitamente piccolo cioè quello che sta dentro gli atomi gli elettroni in primis ma anche i protoni ma anche i neutroni e vide che queste particelle seguono delle leggi che non hanno nulla a che fare con le nostre palline con le nostre arance con i nostri palloni per esempio una nostra arancia per andare da qui a lì percorre una traiettoria dell'entrone per andare da qui a lì passa dove li pare e non possiamo sapere per dove è passata tanto per dirne una la meccanica quantistica è forse più rivoluzionaria della teoria della relatività ma noi siamo colpiti giustamente direi dalla teoria della relatività perché è il prodotto di una mente sola o quasi di una mente sola in realtà lui si fece Einstein si fece aiutare un po' dai matematici perché non era tanto bravo in matematica ma aveva un intuito fisico incredibile ed eccezionale cosa dice la meccanica quantistica ne dice tante ma quello che riguarda lui in questo momento è il fatto che finché io non faccio un esperimento non posso sapere qual è il risultato tanto è vero che esiste il famoso principio di indeterminazione di Heisenberg che dice per una particella piccola diciamo un elettrone o io so con precisione assoluta dov'è o io so con precisione assoluta che velocità tutte e due le cose insieme non le posso sapere con precisione assoluta le posso sapere in maniera molto approssimata il perché è abbastanza semplice perché per sapere dov'è un elettrone li devo lanciare contro qualche cosa per esempio un fotone questo fotone gli dà una spintarella per cui nel momento stesso in cui dico sta lì l'ho mosso io la dico così ma naturalmente le cose sono più compresse ma la sostanza è questa all'interno della materia all'interno anche della materia di cui hai fatto sto tavolino c'è una fisica completamente diversa che però diventa la fisica di tutti i giorni quando si viene a dimensioni grosse se l'elettrone ipotesi impossibile potesse diventare sempre più grande sempre più grande sempre più grande a un certo momento comincerebbe a comportarsi come una pallina da biliardo comincerebbe cioè a seguire le leggi della fisica cosiddetta classica quella che conosciamo noi soprattutto per quanto riguarda il poter sapere qualcosa di una particella con precisione come ho detto esistono delle variabili che noi chiamiamo coniugate che non possono essere sapute entrambi con la stessa precisione il principio di indeterminazione viene venduto quotidianamente dai chattotani con la frase l'osservatore turba l'evento no non è l'osservatore turba l'evento è l'osservazione perché anche se non la fa un essere umano ma la fa una macchina turba lo stesso e ho sentito tanta gente non faccio nomi né professioni ma purtroppo il mio cuore dole tanta gente applicare il principio di indeterminazione ai cristiani intensi come esseri umani no no gli esseri umani sono troppo grossi per fare discorsi appena del genere finché si resta agli elettroni il principio di indeterminazione è sacrosanto quando si viene al macro mondo tramonta perché perché per sapere dove sono io che tra l'altro non sono nemmeno tanto vicino non c'è bisogno di buttarvi un fotone addosso oppure se me lo buttate non mi sposto minimamente quindi certo se mi ha mandato una cannonata mi sposta ma non è lì il discorso gli oggetti macroscopici non seguono il principio di indeterminazione devo dire che nella maggior parte delle menti delle persone che io conosco il principio di indeterminazione significa qualcosa di molto diverso da quello che significa in verità come il famoso principio di Gödel che ognuno tira dalla sua parte in genere la gente di fisica e di matematica sa solo Gödel e Heisenberg col risultato che il nostro è uno dei paesi più ignoranti che esistono in circolazione non che gli altri siano tanto più dentro ma insomma c'è una certa differenza e ripetiamo i nostri riscosti allora che ne è della irreversibilità del tempo e purtroppo queste due nuove teorie bellissime interessantissime mi danno due risposte diverse cioè se seguo la relatività quasi quasi di irreversibilità non esiste perché se spazio e tempo sono cementati non possono essere irreversibili tant'è vero qualche anno fa usceva un libro infame che diceva il tempo non si muove questo piace alla gente pensare che il tempo non si muove perché il tempo vuol dire invecchiare il tempo vuol dire probabilmente morire ma il tempo si muove però a rigore a rigore se uno vuole applicare la geometria dello spazio tempo che viene chiamato anche cronotopo il tempo non è irreversibile la meccanica quando in siga ti dice esattamente il contrario se tu non puoi sapere come andrà un esperimento fin tanto che non lo fai vuol dire che il tempo è aperto è pieno di sorprese è pieno di novità chi ha ragione non lo so non lo sa nessuno e come certamente saprete il maggior compito dei fisici di domani quindi anche dei nostri ragazzi che si avviano ora a fare fisica sarà proprio quello di sposare queste due teorie la relatività generale perché quella distretta è già stata sposata e la meccanica quantistica non per il problema del tempo che è un problema non prettamente fisico ma per il problema di spiegare l'universo nel quale vale l'una teoria e l'altra ma è possibile che noi non riusciamo a metterle d'accordo non le riusciamo a mettere insieme in realtà quel poco che è successo negli ultimi quel poco quel tanto che è successo negli ultimi 50 anni ha un po' cambiato la prospettiva perché noi sappiamo che l'universo si espande nella sua interessa sapete la storia dell'universo che si espande Einstein escrisse delle equazioni sull'universo che non sapeva risolvere gli ero risolse un matematico ma la soluzione di questa equazione diceva che l'universo non è statico o stazionario se preferite come lui amava credere perché in vecchiaia un po' scemi si diventa tutti ma si muove rimase malissimo ci aggiunse un termine per evitare questa catastrofe ma dovete capitolare oggi tutti sanno che l'universo si espande e si espande ad una velocità impressionante probabilmente sottolineo probabilmente tutto è cominciato in un momento che noi chiamiamo Big Bang che sarebbe il grande botto praticamente in cui tutto è cominciato e l'universo ha cominciato ad espandersi all'inizio c'è stato un periodo velocissimo e confusissimo poi ora l'universo si sta espandendo con una certa regolarità se tutto questo è vero allora l'irreversibilità del tempo è abbastanza chiara è basata sulla espansione dell'universo che ha un tempo zero ha una certa durata e in effetti si può dimostrare ed è una bellissima dimostrazione che anche quello che succede dentro le mie scatole piene di molecole o quello che succede dentro il mio orologio o quello che succede dentro le mie cellule risente perché non è separato rigidamente della espansione dell'universo quindi in questo momento se proprio io dovessi dare una risposta sull'irreversibilità del tempo direi perché l'universo si espande però questa idea mia non è condivisa da tutti anche perché come sapete lo scienziato non si accontenta mai di avere una spiegazione e vogliamo capire sempre meglio com'è e cos'è questa espansione e soprattutto come interagiscono tra di loro queste teorie potentissime come la meccanica quantistica da una parte e la relatività generale dall'altra non credo che la soluzione sia vicina però stiamo tutti ad aspettare in questi giorni stanno dicendo che giovedì proprio non è il giorno che poi sarebbe dopo domani si darà l'annuncio che hanno trovato delle onde gravitazionali io quando leggo una cosa sul giornale uso questo criterio me la metto in tasca se dopo 5 anni se ne parla ancora la piglio sul serio se dopo 5 anni non se ne vada più era una pretinata quindi io vi invito sempre a fare questo esercizio perché se no uno va via di cervello insomma va via di cervello in modo toscano di dire perde il seno comunque in questo momento la fisica la fisica va fortissimo anzi aveva avuto un momento di eclisse ora è ritornata agli onori della cronaca grazie alla cosmologia e per il fatto che subita un po' all'astrologia perché a noi esseri umani si interessa in realtà solo l'astrologia quindi che dicesse la margherita che la parola astronomia è associata alla parola astrologia quindi la fisica continua ad andare avanti spero che se io mai o uno a posto mio ritornasse qui fra 10 anni o fra 20 anni avremmo qualche risposta più avanzata di questa che un'altra ma noi siamo esseri viventi oltre che essere oggetti fisici anzi l'idea del tempo e della sua irreversibilità viene dalla biologia perché noi vediamo le stagioni alternarsi le foglie cadere anche se non cazzo più ma se mi fanno una gran confusione ma una volta cadevano le piante crescono gli animali invecchiano e non si è mai visto un animale ringiovanito almeno fino ad oggi quindi di fatto l'idea del tempo ciclico come le stagioni ma nel stesso tempo irreversibile come l'invecchiamento ci viene dal contatto quotidiano con gli esseri viventi a partire da noi stessi perché anche noi ci accorgiamo di invecchiare non ci piace vedere il nostro invecchiamento ci piace piuttosto vedere quello degli altri ma non c'è nulla a fare invecchiamo anche noi io mi ricordo quando ero ragazzo vedevo che a mio padre non gli veniva una parola mi pareva così ovvio che la parola successiva era quella dice ma vedi questo sono arrivati 70 anni e passa e anche a me ogni tanto mi manca qualche parola se mi manca quando faccio una conferenza faccio un giro lunghissimo prima o poi arriverà quella parola quello ricordatevelo chi c'ha una certa età non si arrabbi se non gli viene una parola se non gli viene un nome proprio non si innervosisca aspetti e poi verrà magari la mattina dopo quando ci si alza dal letto perché in vecchiaia non è che si perdono i ricordi come dice la gente no si perde proprio nulla si perde la velocità di richiamarli quindi siamo un po' più lenti a richiamare i nomi e i concetti basta non arrabbiarsi e poi vengono naturalmente facile dire a uno non arrabbiarsi è il comando più difficile da dare però se uno riesce a non arrabbiarsi poi le cose arrivano questo per dire che in solido anche io ho vissuto prevalentemente ma non esclusivamente negli ultimi anni il mio invecchiamento ho toccato con mano a parte gli acciacchi naturalmente di quali nessuno parla perché sono vergognosi ma in realtà la vecchiaia è fatta di acciacchi non è fatta di cicerone delle sinetute cretinate varie il tempo biologico va in una direzione e ce lo fa vedere però anche all'interno del tempo biologico cioè studiato dalla biologia che è se vogliamo la scienza leader degli ultimi 50 anni c'ha anche lui due aspetti contrastanti tanto per cambiare un aspetto circolare e un aspetto lineare l'aspetto circolare è l'aspetto delle reazioni biochimiche che avvengono nelle nostre scelte che sono velocissime devono essere velocissime e devono rispettare certi tempi perché se in una cellula mia cominciasse una reazione e ci mettesse tanto tempo nel frattempo la cellula si sarebbe divisa in due e quindi comincia in una cellula e finisce in un'altra in realtà noi abbiamo un orologio fondamentale che è quello del ritmo circadiano circadiano vuol dire quasi un giorno quasi 24 ore che è molto simile al periodo che impiega una cellula a replicarsi ma circadiano è un ritmo tanto dentro ci sono tanti piccoli ritmi velocissimi e che devono essere velocissimi la natura ha inventato gli enzimi perché nel nostro corpo avvengono le reazioni chimiche che avvengono anche in laboratorio ma vengono in genere velocissime se no non sarebbe compatibile con la vita perché perché hanno dei facilitatori che possono essere chiamati catalizzatori se sono inorganici o enzimi se sono organici quindi dentro di voi ricordatevi in ogni vostra cellula avviene tutto quello che deve avvenire ma avviene in tempi compatibili con la vita perché abbiamo dei facilitatori che sono proteine sostanzialmente che fanno questo esercizio se questa molecola deve reagire con questa molecola io non aspetto che si incontrino per caso ma l'enzima a k1 a k l'altra le tiene vicine fin tanto che reagiscono l'enzima non ha le manine ma il concetto è sostanzialmente lo stesso quindi tutto quasi quello che noi siamo lo dobbiamo ai nostri enzimi che sono quelli che finiscono i nasi o i nase secondo la lingua di cui noi seguiamo parlare in genere solo quando facciamo le analisi cliniche ma in realtà anche la persona più sana della terra è piena di reazioni facilità anche se noi diciamo compiute dagli enzimi e ringraziamo il dio che ci sono se no la vita non sarebbe possibile quindi c'è una serie di eventi che devono avvenire per forza rispettando certe scadenze cioè certe temporalità interessante è il discorso del ritmo circadiano già nel settecento si vide che la mimosa si apre e si chiude secondo il ritmo della giornata però se prendo una mimosa e la metto in una stanza che ha temperatura normale e luce fissa continua ad aprirsi e chiudersi secondo il vecchio ritmo circa circa 24 ore naturalmente gli studi sono stati portati avanti anche sugli animali superiori e anche sull'uomo cosa ci succede a noi a noi esseri umani se ci chiudono in una stanza senza radio senza televisione naturalmente senza Sanremo non so come fare con luce sempre uguale e con temperatura sempre uguale che il ritmo del sonno e della veglia a poco a poco si portano invece che a 24 ore a 25 ore cioè il nostro ritmo circadiano è di 25 ore cioè un po' di più nella vita non è così perché perché noi non siamo in una stanza a illuminazione soffusa e a temperatura fissa siamo nel mondo e il nostro cervello registra le cose del mondo e mette a posto il nostro orologio perché è chiaro che è più facile togliere che aggiungere e quindi porta le 25 alle 24 e lo porta abbastanza velocemente nel passato si favoleggiò che ci fosse un terzo occhio l'occhio pineale che osservava la luce e il buio in realtà non abbiamo un terzo occhio ma abbiamo nella retina degli occhi tutti e due una cellula sommiglia una cellula gangliare sommiglia non è sensibile alle figure alle forme ma all'intensità quindi oggi noi sappiamo come facciamo a regolare il nostro orologio interno se qualcuno per dispetto ci tappasse gli occhi a queste cellule noi non regoleremmo più il nostro ritmo e quindi saremmo sempre un po' sballati chiunque faccia viaggi intercontinentali sa che c'è il problema del jet lag in cui uno rimane un po' sbalestrato perché parte alle 11 vai negli Stati Uniti arriva alle 2 dove invece sono le 8 e tanta gente dice pigliatevi questa medicina pigliatevi questa la vera medicina è primo non mangiare troppo prima durante e dopo il viaggio cosa che io non ho mai fatto naturalmente e poi appena arrivate non vi fiondate in camera ma state all'aperto in modo che il vostro occhio che non è più pineale ma è sensibile alla luce si regoli immediatamente quindi se volete soffrire poco del jet lag andate all'aperto nel posto dove arrivate intanto almeno se di giorno è più facile perché se di notte è buio più che buio non può essere però il fenomeno del jet lag che 150 anni fa sarebbe stato nemmeno immaginabile è la forma che noi abbiamo di toccare con mano la realtà del nostro ritmo circadiano in realtà abbiamo appreso negli ultimi 30-40 anni e c'è un mio amico di Napoli che ora lavora in California che studia proprio questo ritmo dentro le cellule perché è chiaro che già dentro le nostre cellule c'è un ritmo e c'è una regolarità le cellule di tutto il corpo ma anche le cellule del fegato per esempio che hanno la capacità messa in cultura di tenere o non tenere il tempo sono stati fatti tanti studi sugli animali di tutti i tipi sappiamo descrivere naturalmente non posso entrare in dettaglio sappiamo descrivere con una buona approssimazione come funzionano questi meccanismi quindi questo aspetto del tempo ciclico e regolare è un aspetto del piccolo ma c'è anche un aspetto del tempo lineare che è quello dell'evoluzione biologica l'evoluzione biologica c'è la caratteristica del tempo lineare aperto perché raccontare quello che è successo in passato ci riesce abbastanza bene ma prevedere non ci riesce per niente chi avrebbe potuto prevedere 20 milioni di anni fa che sarebbe nato un bipede che poi andava a scuola e andava alle conferenze sicuramente nessuno chi avrebbe potuto prevedere vedendo i primi insettivori che sarebbero diventati grossi animali con un'enorme corteccia cerebrale ricordatevi la corteccia cerebrale che è il nostro vanto e anche la nostra dannazione perché senza corteccia saremmo molto meglio nasce con i mammiferi quindi due o trecento milioni di anni fa e si estende sempre di più nel topolino è un minuzzolino piccolissimo e poi diventa sempre più grande nel caso nostro copre tutto il nostro cervello quando voi guardate un cervello umano vedete soltanto la corteccia cerebrale anche se dentro c'è il grosso del cervello chi di voi ha letto il mio articolo sul sorriso sulla lettura di domenica io lì dicevo che esistono due forme di sorriso un sorriso forzato che io faccio volontariamente bene o male secondo che sono un attore che è comandato dalla corteccia quindi è comandato corticalmente esiste poi il sorriso spontaneo quello in cui si illuminano anche gli occhi perché si mettono in azione muscoli che stanno intorno agli occhi il quale è comandato non dalla corteccia ma dalla parte del cervello che sta dentro io ho scelto il sorriso perché è un fenomeno gentile è un fenomeno del quale nessuno si potrà dispiacere ma ci sarebbero centinaia di altri episodi della nostra vita mentale che possono essere o sotto il controllo della nostra corteccia cerebrale oppure possono seguire diciamo la parte di cervello più vecchio qualcuno parla di un cervello rettiliano ma non è se c'è che anni i rettiliani sono passati anche di moda tra l'altro un cervello molto più vecchio che esplica però le funzioni fondamentali io posso vivere anche senza pezzi di corteccia e conosco qualcuno che lo fa ma certamente non posso vivere senza pezzi del cervello interno perché quello controlla il ritmo della mia respirazione il battito del cuore l'equilibrio acido base del sangue e via discorrendo quindi nella nostra testa noi abbiamo un cervellone totalmente foderato dalla corteccia cerebrale che badate bene allo spessore solo di 2-3 millimetri quindi non vi vantate troppo insomma è una foderina che ricopre tutto il cervello già in una scimmia non è così quindi noi abbiamo questa caratteristica che penso in perfetta buona fede non poteva essere prevista a nessuno come probabilmente nessuno 600 milioni di anni fa poteva prevedere che tutti gli animali che stavano nell'acqua sarebbero prima o poi arrivati a vivere sulla terra quindi anche nella vita ci sono due aspetti un aspetto del tempo ciprico e un aspetto del tempo lineare e relativamente imprevedibile che è dato dall'evoluzione voglio chiudere uscendo un attimo dal tema perché appunto io mi sono occupato molto con grande soddisfazione anche della sensazione del tempo non solo della misura del tempo e sulla sensazione del tempo sapete che la gente mi ha detto di tutti colori una delle frasi che ho sempre preferito è quella di Agostino che parla di distensio animi o di estensio animi secondo delle varie citazioni e in effetti quello che noi osserviamo di noi stessi è che il tempo dentro di noi è una un qualcosa che va avanti in una direzione ne percepiamo bene o male le estensioni ecco le moderne neuroscienze che sono parte della biologia sì ma diciamo della biologia delle molecole e delle reazioni ci hanno insegnato come funziona almeno in parte il fenomeno del tempo e ci hanno detto che io o per meglio dire il mio cervello nella sua interezza si aspetta di vedere qualcosa in ogni istante se l'osserva si tranquillizza se osserva qualcosa di diverso si sorprende come fanno i bambini e il tempo non è altro che una paratia mobile che intercorre tra quello che io mi aspetto e quello che io osservo e questo processo va avanti tutta la vita fin tanto naturalmente che c'è salute corporale mentale e questo è il tempo per me che ha una notevole componente biologica che non è in contraddizione col tempo della fisica perché mi ricordo tanti anni fa avrei una discusione con uno psichiatra che dice ma cretinate il tempo misurate se io sono in una sala di attesa il tempo non passa mai se io mi diverso il tempo passa veloce quindi che conta il tempo psicologico gli dici sì ma se facciamo una media tra i tempi in cui tu hai fretta i tempi in cui tu ti annoi vedrai che trovi pari pari il tempo fisico lui si arrabbiò perché mai contraddire quelli che sanno tutto quindi come vedete io vi ho fatto un viaggio dovevo parlarvi solo del tempo biologico ma è successo che chi vi doveva parlare del tempo fisico ha avuto un problema biologico e quindi io vi ho parlato e vi ho fatto anche un lancio un outlook si dice in inglese una cucchiatina a quello che può essere e che è il nostro tempo interno naturalmente non ho risposto alla domanda che cosa è il tempo però ve ne ho raccontate talmente tante che se le dovessi veramente completare passerebbe anche troppo tempo grazie grazie applausi grazie 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 grazie